Il Bitonto avvia il 2022 in compagnia e quella di Francavilla Insigni è udace Cerignola, cocapoliste del girone H di Serie D con i neroverdi a quota 37 punti. Anche il club, allenato da Claudio De Luca, come tanti altri, è passato per la scura del Covid nella sosta natalizia, ma ora si prepara a ranghi quasi completi per la ripresa del campionato, fissata domenica alle 14.30 sul campo di una nocerina che ha chiuso il suo 2021 con tre cappò di fila, parola del vicepresidente Antonello Orlino. Non ci siamo mai fermati in virtù del fatto che il campionato doveva iniziare il 9, quindi noi eravamo pronti e ci faremo trovare pronti. Di quello poi che succede negli altri ambienti, a casa di altrui, non ci deve interessare. Noi siamo una squadra con un obiettivo chiaro, un gruppo di professionisti, abituato a giocare con pressione e quindi dobbiamo solo pensare a noi stessi e a migliorare con il lavoro settimanale. Poi di quello che avviene su altri campi lo guardiamo forse ad aprile. L'anno solare sul campo invece il Bitonto lo ha archiviato con il sorriso, merito dei tre successi di fila ottenuti contro Mariglianese, Virtus Matino e Francavilla. In entrata si cerca tra i club pro per un difensore under, la Cassia della Fidelisandria e il nome in cima alla lista, mentre Urlino non vede di buon occhio la possibile riapertura di una sessione di mercato legata ai dilettanti, ipotizzata tra il 24 gennaio e il 7 febbraio. Il mercato noi lo facciamo ovviamente in modo preventivo, nel senso che di certo non aspettavamo questa finestra per migliorare la squadra, una squadra che era già ottima e che sono state fatte infatti pochissime operazioni in entrata. È un periodo, quello del mercato, antipatico perché comunque si va anche a destabilizzare determinati ambienti. Sul campo il Bitonto ha tante certezze rappresentate da classifica, qualità dei singoli e rendimento. Una grande incognita è invece quella configurata nei lavori allo stadio Città dei Gliulevi che accompagnano la squadra del presidente Francesco Rossiello anche in questo 2022. Sono scoraggiato, ormai di anno in anno il tempo iniziale è sempre quello dell'11 giugno 2018 e tra un po' festeggeremo la quarta candelina di lavori mai iniziati, quindi andremo a creare questo nuovo evento e festeggerò da solo, forse con qualche tifoso, questo tristissimo compleanno.